Aristide Colai, l'ultimo arrivato in casa biancazzurra, trattativa che si è conclusa positivamente dopo un lungo tira e molla. Sì, sono contento adesso di essere qua, sono felice di aver raggiunto la squadra e potermi allenare in preparazione al campionato. Quali sono le tue caratteristiche? Io sono un trequartista esterno, mi piace saltare l'uomo, creare superiorità numerica. Arrivi dall'Alessandri, arrivi da un campionato di Serie B, seppur non positivissimo per i grigi, scendere in Serie C cosa significa per te? No, io la Serie C l'ho già fatta, quindi è un campionato molto valido che ti dà una mano a crescere. La retrocessione fa parte del calcio, però come ho detto sono molto contento della scelta che ho fatto e lavorerò per dare il massimo. Una Serie C che per il Pescara, almeno questo l'augurio dei tifosi, dovrà vedere la squadra puntare, cercare di puntare ad un campionato importante alla promozione. Sì, sì, noi sicuramente faremo un campionato importante per la società, per i tifosi, daremo sempre il massimo e poi è normale che noi speriamo di poter arrivare alla promozione. Cosa conosci, cosa hai sentito di Pescara, di questa piazza, del calore comunque di una tifoseria che è sempre al fianco della squadra? No, è una società che comunque ha scoperto tanti giocatori, è una piazza importante, i tifosi sono caldi, sono presenti, sostengono la squadra e diciamo che anche questo mi ha dato una mano a scegliere la società. Potrebbe essere per te questo un trampolino di lancio definitivo, parlo della tua carriera visto che sei ancora molto giovane. Sì, io sono venuto qua per giocarmi le mie carte, far vedere quello che valgo, darò il massimo a tutte le partite, tutti gli allenamenti e poi speriamo di poter fare il salto con la squadra. Per chiudere, sei da poche ore qui a Pescara, che spogliatoio hai trovato? Le prime impressioni, primissime impressioni sul tecnico Alberto Colombo? Lo spogliatoio mi sembra uno spogliatoio eccezionale, fatto di tanti ragazzi giovani e tanti esperti che comunque danno una mano a noi ragazzi giovani. Sono molto contento, come ho detto, il mister mi sembra una persona molto in gamba e speriamo di riuscire a fare quello che ci dirà di fare in campo. Bocca al lupo! Crepi, grazie. Grazie.